Ue di anticipazioni, Maria dubita dell'interesse guarnieri per Gloria, ospiti Luisa Salvo. L'ultima registrazione di Uomini e Donne del 2022 è stata ricca di colpi di scena, le anticipazioni riguardano soprattutto alcuni rimbrotti che Maria De Filippi ha rivolto a due veterani del cast. Dopo aver rifiutato Riccardo, preferendogli un altro uomo, Gloria ci ha ripensato e questa vicenda ha spinto la presentatrice a dubitare dell'interesse di entrambi. Anche Armando è stato rimproverato per come ha trattato una ragazza che avrebbe voluto corteggiarlo, De Filippi ha punzecchiato incarnato sul suo essere troppo personaggio e sul ritocchino appena fatto. Di recente sono giunte ulteriori anticipazioni su quanto accaduto in studio a Uomini e Donne durante la registrazione di giovedì 29 dicembre. Il blogger Pugnaloni, tramite Instagram, ha rivelato che Riccardo e Gloria sono stati nuovamente chiamati al centro dello studio per raccontare del loro riavvicinamento. La dama ha interrotto la conoscenza con Umberto e ha accettato di riprovarci con Guarnieri per l'ennesima volta. Maria ha voluto dire la sua su questa storia, palesando molti dubbi soprattutto sull'interesse che il pugliese sostiene di provare per Nicoletti. Secondo la presentatrice di Canale 5, infatti, l'insistenza con la quale Riccardo ha cercato Gloria non sarebbe altro che un gesto di possessività nei suoi confronti. Una mossa studiata appositamente per allontanarla dal suo nuovo spasimante. Maria De Filippi ha poi rimproverato Armando per i suoi comportamenti poco rispettosi nei confronti delle dame con le quali esce. La conduttrice si è innervosita quando si è resa conto che il napoletano stava cercando di incolpare la sua corteggiatrice per la brusca fine della loro frequentazione. Stando alle ultime anticipazioni, De Filippi è messo alle strette incarnato, chiedendogli, ma pensi di essere l'unico qui dentro che credi un personaggio? Lo sfogo di Maria è proseguito con il riferimento al ritocco estetico che il cavaliere ha fatto da poco presso un amico chirurgo. Un vezzo che, secondo la presentatrice, confermerebbe che l'obiettivo dell'uomo non è quello di trovare l'amore, ma di apparire impeccabile in televisione. Alla registrazione del 29 dicembre di Uedì ha partecipato anche una coppia che si è formata in studio qualche anno fa. Luisa e Salvo, infatti, sono stati invitate dalla redazione del Dating Show per mostrare il video delle loro nozze. La dama e il cavaliere si sono conosciuti e innamorati nel parterre del programma. E proprio qui sono tornati per raccontare il periodo felice che stanno vivendo da quando sono diventati marito e moglie. Per quanto riguarda i giovani del cast, nessuna novità, Federico continua ad essere indeciso tra Carola e Alice, ha baciato quest'ultima in esterna. Facendo piangere Carpinelli, mentre la vigna si dice interessata ad entrambi gli Alessio che sta frequentando da qualche mese a questa parte. Maria De Filippi ha chiesto ai tronisti tra quanto tempo hanno intenzione di scegliere. Ma per ora nessuno dei due si è sbilanciato. Resta ignota, dunque, la data in cui Nicotera e Mauro lasceranno la poltrona rossa alle new entri, dopo gli addie degli attuali protagonisti del trono classico saranno presentati i loro sostituti che, salvo cambi di programma, dovrebbero essere quattro. Parasiti, Dragon, Maxi, Gespe, Chimie, Rimaru, Spike, Pui, Assisi, Swappo, graso, nimeni altu, Delvede, sau Carbo. Tre'i să vă mănânc versi cu versi card intens, tre'i să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor, de zici că mă bar cu boss-ul, la cât de urât.